Benvenuti su Reality Italiano. O prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. E andato in scena l'ultimo atto di Temptation Island e Vittoria e Daniele, sono stati i protagonisti dell'ultima puntata. La coppia ha affrontato le sfide più grandi per il loro amore a Temptation Island e le telecamere hanno registrato momenti di passione e tradimento, tentazioni e verità sconvolgenti sono emerse senza pietà. Daniele, dopo aver visto i video nel Pinnetu, ha subito un duro colpo da parte della sua fidanzata Vittoria, che è passata da preda a cacciatrice. La situazione si è fatta incandescente quando Daniele è stato messo di fronte al plateale tradimento di Vittoria. Daniele ha chiesto un falò di confronto immediato e Vittoria, senza esitazione. Ha riversato su di lui le colpe dei suoi comportamenti con il tentatore Edoardo. Ho fatto tutte le cose perché sentivo di farle, tu quante volte mi hai rifiutata. Qui ho avuto cose che non mi davi più. Si è confidata Vittoria, aprendo il cuore durante il falò di confronto anticipato. È stato un momento carico di tensione dove il pubblico di Temptation ha scelto di schierarsi con Daniele. Mentre Vittoria si è messa sulla difensiva e ha accampato scuse e giustificazioni per il suo comportamento durante il reality. Daniele è apparso fermo e ha finalmente fatto uscire tutte le sue emozioni. Io non mi sono mai spinto così oltre, mi hai profondamente deluso. Se la domanda con cui siamo entrati era se fare un figlio, la risposta è chiara, né ora né mai. Ha dichiarato Daniele. Ribattendo alle parole di Vittoria. Ma cosa pensate di Vittoria? È stata veramente costretta dai comportamenti di Daniele o, come sembra essere, vuole tenere un piede in due scarpe? La coppia ad un mese dalla fine del reality definitivamente sciolta e i tentativi di Vittoria di ricucire con Daniele si infrangono contro il muro di delusione e amarezza che Daniele porta nel cuore. Phil, non va bene, ma mi sto risollevando, per me lei ora non vale più nulla. Mentre Vittoria. Dopo aver assaggiato il tradimento estivo, tenta di riavvicinarsi, non si comprende con quale coraggio, ma lei è disposta a riconciliarsi e a concedere il perdono. Daniele invece è irremovibile. Vittoria hai oltrepassato ogni decenza, sapevi quello che facevi e di questo come dici tu? Ne predi la responsabilità? Noi stiamo con Daniele, e tu? Con chi stai? Seguici per altri aggiornamenti su questa coppia scoppiata.